I carabinieri della stazione di Alatri, insieme ai colleghi dell'aliquota radiomobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piena notte nel territorio di Alatri un'auto con due giovani a bordo, i quali alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Dopo un inseguimento, i carabinieri hanno bloccato i due, che per sfuggire al controllo sono andati a sbattere con il veicolo contro un muro. Uno dei due giovani durante la fuga ha lanciato dal finestrino un involucro contenente un grammo di cocaina. Insospettiti dal loro atteggiamento, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, che ha dato esito negativo per il conducente dell'auto, un 25enne di Alatri, gravato da precedenti di polizia, mentre la perquisizione a carico del passeggero, un 29enne del capoluogo, ha permesso di rinvenire la somma di 630 euro. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato un ingente quantitativo di droga, oltre 2 kg di cocaina, 80 g di crack, più di 23 kg di hashish suddivisi in panetti e cilindri pronti per la distribuzione al dettaglio, 700 g di marijuana in foglie sticcate, una pistola con matricola brasa carica con 6 colpi più altre 6 cartucce, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento, tre coltelli intrisi di sostanza stupefacente, una forbice, una telecamera wireless e sostanza da taglio. Le attività di polizia giudiziaria sono poi continuate anche in un altro stabile in uso al giovane, dove sono state trovate due strutture adibite a serre, perfettamente attrezzate per la coltivazione della marijuana e altri 5 kg di marijuana in foglie sticcate. Il giovane è stato arrestato per i reati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. L'operazione ha permesso di assestare un duro colpo alla criminalità locale dedita allo spaccio e smantellare delle strutture adibite alla coltivazione di canapa indiana. L'importante sequestro ha evitato che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti venissero immessi nelle piazze di spaccio di Frosinone, Alatri e comuni limitrofi.